Sì, abbiamo messo in campo questo progetto sulla raccolta dei rifiuti elettronici che noi riteniamo sia un elemento molto molto importante per cui intendiamo porre l'attenzione ai sindaci, agli assessori agli ambienti di tutti i comuni di porre particolarmente attenzione su questa problematica dei rifiuti elettronici e quindi l'invito e la sensibilizzazione è quello di attivare i centri di raccolta comunale che siano in grado di raccogliere tutti i rifiuti prodotti dai cittadini, dai comuni perché poi per la maggior parte sono dei rifiuti che possono essere riutilizzati e quindi è davvero uno spreco, oltre che dal punto di vista ambientale perché sono altamente anguinanti ma anche dal punto di vista economico perché molte parti di questi rifiuti possono essere riutilizzati. Ecco, qual è il progetto del parco? Come dare seguito poi all'incontro di sabato mattina? Il progetto del parco è partito da una tesi di un ragazzo del territorio che ha censito tutte le quantità di rifiuti prodotti nel territorio di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Valle Diana e degli Elburni. Abbiamo invitato anche un amministratore delegato di un centro di raccolta RAIA dove ci spiega l'utilità di questa operazione e quindi questo servirà proprio a far capire a tutti coloro i quali sono stati invitati che un'azione singola di tanti messi insieme produce un effetto molto molto importante per tutti e soprattutto abbiamo invitato anche le scuole per fargli capire ai ragazzi che sono quelli su cui puntiamo e su cui incentriamo molto la nostra azione di sensibilizzazione qual è l'utilità di mettere in campo comportamenti virtuosi e non disperdere nell'ambiente i rifiuti prodotti. Quindi non li gettiamo, non li abbandoniamo lungo le strade non realizziamo queste discariche abusive perché naturalmente c'è l'alternativa. C'è l'alternativa e tra l'altro è anche gratuita, non si paga nulla. Bisogna semplicemente avere un comportamento virtuoso e civile di modo che noi non inquiniamo il territorio in cui viviamo e facciamo in modo che questi elettrodomaestici, queste apparecchiature elettroniche una volta utilizzate non devono perdere la loro utilità per sempre ma invece possono essere adeguatamente trattate, riutilizzate e diventano di nuovo utili per tutti.